Questo programma è offerto da Auto Puglia, Concessionaria Peugeot, Via Zipitelli 2, Bari, Leone d'Oro, Birrificio del Levante, Università L'Umm, Jean Monnet. Fatti conoscere un po' meglio dai nostri tifosi quali i tuoi punti di forza e quali magari quelli più deboli. No, io sono venuto qua per giocare, per mettermi sempre a disposizione del mister e di tutti i miei compagni. Io voglio fare bene e cercherò sempre di dimostrarlo se in allenamento o se nelle partite e poi vedremo com'è andata. Il mister Fino d'ora ti ha impiegato anche negli allenamenti come difensore centrale, però tu nell'Inter hai esordito da terzino. Qual è il tuo ruolo ideale? Come ogni giocatore c'è uno che preferisce, io preferirei centrale, poi in ogni posizione che mi mettono io cercherò sempre di fare del mio meglio per dare un aiuto alla squadra e anche al mister. Cioè in cosa pensi di dover migliorare? Nel calcio ci sono sempre tante cose da poter migliorare, quindi io sono sempre a disposizione per migliorare in tutti gli aspetti e in tutte le cose. Ti chiedo, l'anno scorso cosa ti ha lasciato con l'esperienza con l'Inter, aggregato poi soprattutto in piatto stabile alla prima squadra? Mi ha lasciato tantissime cose perché essere con quei grandi giocatori impari sempre tante cose ogni giorno, sai nel allenamento, sai nelle partite. Anche guardando loro, giocando, impari moltissimo come cercherò di imparare anche quest'anno da tutti i miei compagni. Da chi hai cercato di rubare i trucchi del mestiere? Io ho cercato di rubare i trucchi di tutti i componenti della difesa, però soprattutto Walter Samuel perché è stato un grandissimo campione. Per te è stato già fissato un prezzo di riscatto e contro riscatto, alla fine sei giovanissimo, che effetto ti fa a questo? L'effetto non c'è nessun effetto, è importante, continua sempre a giocare e migliorare. Senti, Nicola cosa ti sta chiedendo in particolare? Spesso vediamo che comunque ti prende anche da parte, ti spiega alcuni movimenti, no? No, lui mi dice sempre di stare attento, di guardare tutti i movimenti, di fare bene e basta, le stesse cose chiede a tutti i miei compagni. Quindi è importante fare bene come ho detto a tutti voi. Che gruppo hai trovato qui in ritiro? Un gruppo fantastico e sono contentissimo di essere e di fare parte di questa squadra qua. E' la ricetta giusta per poter fare un campionato ad alti livelli? Sì, io sono molto contento di essere qua perché è bellissimo, un ambiente fantastico, i compagni sono bravissimi, mi danno sempre una mano, mi aiutano e è bello. A livello personale cosa ti aspetti da questa stagione? Niente, è importante fare bene perché è l'unica cosa che conta. Si è parlato anche di un interesse del Bari per Camarà, un tuo amico, hai avuto modo di sentirlo? No, in questi giorni qua sì, abbiamo parlato, ciao come stai, però niente di speciale. Io spero che lui venga qua perché è un bellissimo ambiente come ho detto.